come utilizzare whatsapp su pc o mac il necessario sarà un pc ed uno smartphone che non sia ios quindi windows phone o android per ora il browser compatibile è soltanto chrome andate su whatsapp e aprite questo menu tramite il pulsante option o quello che avete sul vostro smartphone puoi andare sull'opzione whatsapp web poi dal pc digitate web.whatsapp.com una volta fatto ciò vi apparirà questa home e voi dovete scannerizzare questo codice tramite il vostro smartphone avvicinate lo smartphone al codice qr e vi apparirà questo potete utilizzare whatsapp comodamente con la tastiera del vostro pc bene ragazzi per questo video è tutto vi invito a lasciare un like al video ed iscrivervi al canale grazie a tutti